ciao ragazzi benvenuti ad un altro dei miei video oggi l'attore in questione è Matteo Tomei portiere del Siracusa vi faccio vedere la parte finale del suo intervento guardate qua fantastica uscita bassa da parte di Tomei adesso vi faccio vedere come è partita l'azione e tutto quello che ha fatto Tomei c'è un primo intervento da parte di Tomei ma non serve affermare quello che l'attaccante e guardate qua Tomei vuole una seconda chance recupero della porta immediato in questo momento guarda dove è la porta per poter cercare il posizionamento perfetto per il prossimo uno contro uno eccolo qui basso gambe che si muovono molto veloci non dà possibilità all'attaccante di trovare un buco dove tirare e poi quando l'attaccante decide di rientrare è il momento di uscire e chiudere tutti i spazi bravissimo Tomei qua sotto ci sono cinque passaggi fondamentali per poter replicare questo tipo di intervento io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao